Grande dolore anche in Calabria per l'improvvisa scomparsa di Maria Elia, una ragazza di 17 anni deceduta dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stata ricoverata con qualche linea di febbre e mal di gola. La sua famiglia era originaria di Cotrone, in provincia di Crotone, dove nei prossimi giorni si terrà un momento di preghiera e raccoglimento. Intanto, per far luce sulla tragica morte della ragazza, la procura di Perugia ha aperto un'inchiesta e risultata negativa al coronavirus in fase di triage al pronto soccorso, ricorda il padre. Aveva anche completato il ciclo vaccinale anticovid e soprattutto non aveva malattie pregresse. I familiari si domandano che cosa sia accaduto. La famiglia e gli amici di Maria adesso vogliono far chiarezza e ottenere delle risposte sulle cause che hanno portato alla morte la giovane Perugina di origini calabresi, che a distanza di un'ora dal suo arrivo in ospedale è stata sedata e intubbata. È stato presentato un esposto alla procura di Perugia, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto anche l'autopsia sul corpo della giovane.